Buongiorno dal Touch per la rassegna stampa, la prima del Roma, profughi a Napoli, ha già il fiatone il capoluogo, altri arrivi e poche risorse, il governo stanzia i soldi e poi il narcos imperiale estradato in Italia. Il calcio, l'attesa delle ultime otto sfide per il Napoli, gare da non sbagliare per il tricolore, si riparte dal big match con l'Atalanta, Spalletti pronto a ricaricare in signe. Covid, zero morti in Campania, l'ultimo dato, ma continuano a salire i ricoveri, Regione prima per nuovi casi in 24 ore. Corsa a smarcarsi da Biden, la politica internazionale dopo le parole, fuori discorso da parte del Presidente americano, Macron no al termine macellaio per Putin, i turchi così si bruciano i ponti con Mosca, anche i politici italiani prendono le distanze, Letta ha aperto dubbi, vanno chiariti, Renzi basta escalation. Zelensky accusa l'Occidente, siete senza coraggio, Kiev chiede armi e tank aerea alla Nato, Mosca ai media russi, non trasmettete l'intervista, spese militari, Conte evoca la crisi, Draghi non forzi la mano. Bombe a grappolo a est, in un giorno 30 raid su Kiev, allarme Cernobil, nuovi incendi vicino alla centrale, i russi continuano ad assediare Mariupol, altro appello del Papa, abolire la guerra. L'accoglienza profughi, Napoli in affanno, ucraini a quota 5.000, Di Maio incontra i sindaci campani e prova a rassicurarli. Il governo stanzia i contributi per gli enti locali, in arrivo l'ordinanza della protezione civile, per ogni persona 30 euro al giorno, una tantum alle regioni per la sanità, fino a 900 euro, per chi si sistema autonomamente i titolari. Della Farnesina ringrazia istituzioni e volontari, qui madri e bambini, fuggiti dalle tante atrocità della guerra. Campania, nessun decesso, l'ultimo dato, salgono però i ricoveri ed è la prima regione per numero di nuovi positivi. La curva sfiora il 17%, in Italia casi in calo, ma sale il trend delle ospedalizzazioni. 5 Stelle, Conte attende il voto della base, sulla leadership, l'ex premier serve unità. Questa sera i risultati. Proseguendo con il Roma, statue sacre deturpate dai vandali, il raid scritte a Villa Literno, sul Cristo davanti al cimitero, e ad Aversa sulla Madonna di Costantinopoli. La rabbia di sindaci di Fraia e Golia, e di Don Patriciello, questi coraggiosi, hanno offeso solo se stessi. Erasmus dispersi in montagna paura a Cava, erano partiti da Napoli, decisivo l'intervento di carabinieri e del soccorso alpino speleologico. La disavventura per quattro studenti stranieri, che sono rimasti bloccati per ore di notte in località contrapone, sul monte Finestra. Incidenti stradali, weekend nero in Irpinia, due morti, tra venerdì e sabato notte si contano anche due feriti sul raccordo e sull'ofantina. Intesa a Pollica, per accogliere i rifugiati nel Cilento, la guerra in Ucraina, firmata una dichiarazione di intenti nel corso della Digital Week, chance per 30 persone. A Benevento, Toma Mastella, prove tecniche di Molisannio, idea che darebbe dignità alle nostre aree oggi periferiche e schiacciate dagli interessi altrui. Incontro in villa comunale tra il governatore del Molise e il primo cittadino di Benevento. Al Sampio, Ferrante, accuse infamanti, regole rispettate. Caso nomine, dopo l'intervento di Abate, su cui converge il PD, arriva la replica del direttore dell'ospedale. Per la telesina, nuova protesta del comitato. Ora basta. La cronaca da Napoli, chiese aperte per la buona movida, polemica, parroci e psicologi nel by night per ascoltare i ragazzi. Il progetto del comune che fa scoppiare la bufera. Draghi a Napoli, trasferanza e proteste. La visita con la giornata di domani per il premier a Napoli per la firma sul patto per la città. Movimento 7 novembre e USB organizzano il sit-in. Andiamo con le pagine di Repubblica, Fratelli d'Europa, con la foto centrale dedicata ai profughi ugraini, la svolta dell'Unione Europea sui 3,8 milioni. Oggi Bruxelles discuterà la proposta di dare 1.000 euro per ogni rifugiato, da Kharkiv a Chernihiv. Ecco dove si combattono gli scontri decisivi. Macron critica Biden, sbagliato chiamare Putin macellaio. Zelensky apre nuovamente al negoziato, neutralità e accordo sul Donbass in cambio della pace. A Barsavia, nel lab dove inizia la diaspora ucraina, dateci un'altra vita. Rabbia ai 10.000 allettini neri nella fiera in cui i profughi vengono smistati nel resto dell'Europa. Il totale delle persone in fuga sfiora i 4 milioni. Un giorno torneremo a casa. Liberateci da Putler. Svolta solidale dell'Europa, 1.000 euro per ogni profugo e mezzi gratis per spostarsi il piano per la redistribuzione dei rifugiati. Oggi a Bruxelles la decisione. I paesi dove si dirigono i profughi, il numero più alto registrato in Polonia attraverso i corridoi umanitari per tutte le zone confinanti all'Ucraina. Il piano italiano fino a 30 euro al giorno per rifugiato. Ecco gli aiuti alle famiglie che ospitano. 71.940 gli arrivi, le donne sono 37.000, 28.000 bambini e 6.600 gli uomini quasi tutti anziani. 428 milioni di euro i fondi stanziati e 300 i minori non accompagnati. Ed è scontro finale sul terreno purtroppo di guerra. le forze del Cremlino si concentrano a Est del Dnepr per spaccare in due il paese e trasformarlo in una nuova Corea. Questa è la prospettiva negli ultimi giorni. Da Kharkiv la Stalingrado ucraina martoriata dai russi ma i tank non sfondano. L'avanzata è stata fermata nei soborghi dell'ex capitale ma i missili continuano a piombare sulla città. A Cernikiv la Mariupol del nord accerchiata da Mosca senza più vie di fuga. La città è all'ultimo bastione a est della capitale dal Dnepr fino al confine bielorusso colpiti i corridoi umanitari. Dettagli regionali con Repubblica Napoli, Lamo Vida, Baby Gang scatenate il caso armati di manganelli e tirapugni aggrediscono un gruppo di ragazzine nel cortile di Santa Chiara fermati dalla polizia ci sono anche due dodicenni fratture al volto a un ragazzino dopo una rissa. La vice sindaca ferma troppi minori per strada con alcol e droga. Draghi e Lamorgesi a Napoli lo Stato c'è l'intervista al prefetto Palomba con il patto alta l'attenzione sulla città incontrerò i sindaci dell'area nord. E poi Man che storia il museo archeologico nella foto dedicata la cronaca con dei baby gang che con manganelli e tirapugni sono scatenate che aggredisce ragazze a Santa Chiara il gruppo con due che hanno 14 anni e sono stati denunciati nella banda anche due dodicenni riaffidati ai genitori al pronto soccorso del San Paolo si presenta un sedicenne con il naso rotto sono stato picchiato da sconosciuti a Mergellina. L'intervista al prefetto Claudio Palomba Draghi e Lamorgesi a Napoli è il segnale che qui lo Stato c'è. è stradato imperiale ma il boss Dave Van Gogh non risponde al GIP fine dell'esilio dorato a Dubai per il regista del narcotraffico dei clan dell'area nord ha una condanna definitiva a oltre 5 anni e poi lo sport il ritorno della statua di Maradona sparita dopo l'inaugurazione sarà di nuovo visibile a tutti fuori dai distinti il 10 maggio presto l'installazione definitiva fuori dallo stadio scelta la data in cui si festeggerà il 35esimo anniversario del primo scudetto ora i dati covid su scala regionale nel servizio emergenza covid diminuiscono i positivi cala ancora la curva dei contagi in campagna conti alla mano oggi il coronavirus fa registrare 7471 positivi su 44264 tamponi processati in percentuale significa che il positivo è il 16,88% un punto percentuale in meno rispetto al 17,82 di ieri cresce il numero dei ricoveri ospedalieri e allerta 656 ricoverati con sintomi 9 in più di ieri 42 quelli ricoverati in terapia intensiva 1 in più di ieri e per questi numeri la campagna è tra le quattro regioni che vedono un aumento dei pazienti nelle terapie intensive c'è un aumento del 2% si raggiunge il 7% di occupazione in campagna regione seguita dalla Calabria del Friuli Venezia Giulia e da Trento domenica da bilancio pesante nei reparti covid del San Pio di Benevento due morti registrati in 24 ore non ce l'hanno fatta un uomo di Montesarchio di 67 anni e una 94enne di Flumeri in Irpina un altro decesso al Frangipane dove è morta una 97enne di Ariano pochi vaccini somministrati solo 152 740 nuovi positivi all'ERTA da Avellino a Montoro solo fra Monteforte e anche a Tripalda situazione stabile nel Salernitano Ucraina accuse incrociate Zelensky all'Occidente vi manca il coraggio pronti a discutere della netra unità Macron e l'Europa Biden ha esagerato su Putin ripartono i colloqui in Turchia l'urlo del sindaco di Mariupol circondati ma combattiamo Zelensky vuole tanki aerei 2.000 bimbi portati via dalla città ucciso generale russo bombe a grappolo nell'est su Kiev 30 raid in 24 ore colpito un deposito di missili dall'ex ultra al killer ceceno in campo i signori della guerra a combattere non solo gli esperti e gli eserciti regolari con i russi Kadirov e i mercenari Wagner Kiev ha il battaglione Azov accusato di simpatie naziste il loro capo cresciuto nel tifo della Dinamo la battaglia nei centri ad est Kharkiv distrutta la scuola era un covo di soldati russi la guerra nella città contesa ucraini costretti a colpire anche le loro strutture il racconto di un 23enne sono morti almeno in 15 gli altri sono scappati via c'erano bombe morte ovunque la fuga di Vika per tornare in Italia era andata a Kherson dalla madre per aiutarla il marito che aveva provato a raggiungerla bloccato alla frontiera il forziere degli oligarchi beni di russo banche e società in mezzo mondo da Abramovic a Mordashov i fedelissimi di Putin che cercano di fuggire alle sanzioni quote azionarie nei settori energia e sport fiumi di soldi per finanziare il capo di Mosca si riparte con le trattative tra Kiev e Mosca l'invettiva di Zelensky occidente senza coraggio telefonata tra Putin ed Erdogan i colloqui si terranno a Istanbul flop della censura pubblicata online all'intervista dei russi al presidente ucraino roghi a Chernobyl pericolo radiazioni volontari eroi al lavoro nella centrale dopo i bombardamenti i boschi nei dintorni si stanno incendiando la combustione rilascia nell'area particelle radioattive la diplomazia all'Europa che frena Biden evitare l'escalation da Macron a Borrell in tanti prendono le distanze dalle parole del presidente USA anche Blinken segretario di Stato corregge il tiro non c'è un piano per un cambio di regime a Mosca la neutralità sospetta dell'India affari con Mosca amici degli States da New Delhi accordi con la Russia per la fornitura di armi di deterrenza nei confronti di Cina e Pakistan con Washington Giappone e Australia l'intesa quad per arginare la potenza di Pechino nell'Indo Pacifico dettagli dai vari capoluoghi e dalle province Napoli turismo riecco gli stranieri la guerra non ferma l'arrivo di europei e americani weekend di Pasqua verso il sold out turismo si ricomincia il ritorno degli stranieri Pasqua quasi sold out francesi spagnoli e tanti dall'est Europa fine settimana da record per B&B e hotel l'assessore ora un patto con Milano per portare qui altri flussi di visitatori San Gregorio la svolta una scuola di pastori per tramandare l'arte gli artigiani hanno incontrato il sindaco e hanno chiesto di sostenere l'iniziativa il presidente Capuano il luogo ideale per il progetto è l'ex asilo Filangeri io campionessa ucraina qui continuo ad allenarmi a Napoli ho trovato pace Tatiana Jednak in fuga da Ternopil il viaggio di sé all'Etoile del San Carlo ha aiutato l'atleta la mobilitazione dei circoli nautici grazie a loro o ancora un futuro Monopattini Mania pronti i nuovi modelli più forti delle buche Elviz e Potenzia la flotta in città arrivano 900 veicoli speciali Napoli virtuosa pochi atti vandalici e tasso di incidenti inferiore al 0.5% ad Avellino la città degli alberi pericolanti relazione shock dei tecnici il 40% delle piante presenta problemi di tenuta nel nuovo piano del verde le linee guida per la manutenzione dopo anni di incuria atto rifiuti l'ora del duello tra Giuditta e D'Alessio il sindaco di Summonte appoggiato dal PD è in poll ma il collega mercoglianese prova a rovesciare i numeri la Festiana Tomasetta terza candidata alla presidenza dovrebbe garantire sostegno al rappresentante Renziano preziosi il cantiere dell'alternativa può essere esteso alle forze moderate l'esponente di opposizione siamo accomunati da un giudizio negativo su festa serve un programma manutenzioni selvagge a rischio 4 alberi su 10 la relazione allegata al piano del verde danni legati per lo più a scarsa attenzione nella nuova programmazione la svolta per piantumazioni e potature corrette dalle case agli alberghi l'alta Irpinia si mobilita per gestire i profughi a Sant'Angelo Aquilonia e Andretta locali comunali e privati già pronti scure sul personale per salvare l'AMU pronto il piano di risanamento dell'azienda locale di trasporti ad Ariano Irpino l'incidenza dei costi per indipendenti dovrà scendere sensibilmente le perdite conteggiate nell'ultimo consuntivo impongono la rimodulazione dei rapporti con municipio e provincia da Benevento Molisannio patto in città avanti con il progetto Mastella Benevento più centrale saremo sede del consiglio regionale via i comitati promotori il governatore Toma ipotesi referendum in ogni comune patto per il Molisannio avanti con il progetto visita di Toma via i comitati promotori Moretti finta interrogazione per indagare su di me non si plaga lo scontro al calor bianco sull'asse Mastelliani Moretti concorsi regolari accuse infondate nomine primari ferrante replica all'attacco di Abate insinuazioni gratuite le mie scelte corrette non pilotate delongis del PD al San Pio mortificate le professionalità locali Leonardo Forza Italia Luigi ha ragione ma adesso si liberi di De Luca Stier via allo sgombero rifiuti non pericolosi la Sante incassa lo che è del laboratorio sito liberato dopo 4 anni di intesa di attesa Agostinelli ora possiamo pianificare il trasferimento in discarica e ad Acerra Villa inaugurata la nuova area giochi presto giostre per i bambini disabili apiario urbano ecco le prime arnie isola di biodiversività a Benevento Telesina le vittime salgono a 2 il commerciante è rimasto ferito giovedì è morto in ospedale nello scontro aveva perso la vita un 31enne molisano flash mob del comitato SOS 372 in un'area di servizio Bonelli più di un decesso al mese l'emergenza va risolta i dettagli con il servizio chiediamo sempre le solite cose che ormai chiediamo da tanti anni ossia che la Benevento Caglianello nota come Telesina venga messa in sicurezza promettono battaglia vogliono essere ascoltati ma soprattutto chiedono che venga messa fine alla lunga scia di incidenti avvenuti lungo l'importante arteria stradale domenica di protesta per il comitato SOS Telesina che ha realizzato un flash mob nei pressi dell'area di servizio lungo la strada statale come sapete qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo incidente mortale e noi ci troviamo periodicamente a piangere queste vittime il nostro più grande rammarico è nonostante siamo nati da 5-6 anni e puntualmente denunciamo chiediamo l'intervento massiccio da parte delle istituzioni e diciamo d'urgenza per mettere in sicurezza questa strada non si sia mosso praticamente nulla a più di 5 anni dalla costituzione il comitato torna a chiedere priorità per questa strada il nostro grido di allarme che ormai c'è da anni rimane inascoltato ma questo ci interessa anche poco non è che vogliamo essere invitati ai tavoli vogliamo che si faccia finalmente qualcosa di concreto nell'agenda delle cose da fare deve essere messa al primo posto ma sui lavori sui lavori di raddoppio della telesina il presidente Bonelli ribadisce il raddoppio della telesina è ovviamente la cosa migliore e necessaria per un'arteria così importante di collegamento tra ovviamente il centro Italia e il sud è chiaro che i tempi per realizzare sono lunghi e quindi nelle more devono essere necessariamente possono essere tutte le attività possibili per renderla sicura da Caserta a matrico verde per legge si accende il dibattito tra tecnici ma la città si prepara all'apertura straordinaria il 3 aprile l'entusiasmo dei comitati dopo la visita col bescovo l'agnese migliaia di visitatori per i tesori dimenticati di scoperta della magia di luoghi storici da Aversa ad Arienzo al parco di Riardo visite guidate e performance musicali con gli studenti di istituti della provincia macrico senza cemento già stabilito dalla legge torna il dibattito sulla destinazione dell'area dopo la visita con il bescovo le ex zone militari sono F2 senza bisogno di modifiche ai piani urbani insulti e scritte sacrileghe gli imbrattatori alzano il tiro ed è allarme il caso spray su chiese e statue dell'agro nel mirino anche i sacerdoti interviene anche Don Patriciello i vigliacchi colpiscono e si nascondono autotrasportatori uniti per uscire dal pantano ieri al Traspo Day 2022 il punto dopo il summit con i rappresentanti del governo i rappresentanti di categoria finora solo una toppa e nessuna garanzia vera da Salerno ambulanze in coda al ruggi ore d'attesa per i pazienti in barella boom afflussi e tamponi il pronto soccorso scoppia più ricoveri mentre la corsa del covid non si ferma 10.000 casi in una settimana sosta selvaggia la piazza liberata con le ganasce vigili in azione 45 vetture bloccate a Sant'Agostino e nel centro storico multe non pagate partono 3.500 cartelle in attesa del bando per sostituire la Soget spese da record per i convegni a Salerno 2 milioni e mezzo la città è seconda solo a Milano mentre la regione è virtuosa il comune ma non è una colpa promuovere il nostro brand recupero della città antica Arcan supera il primo step il ruggi sotto assedio covid e cure tornano le ambulanze in coda lunghe attese per i pazienti nelle barelle troppi SOS inutili il pronto soccorso scoppia e non si ferma la crescita dei contagi oltre 10.000 casi nell'ultima settimana rientro di docenti ebidelli no vax i presidi sempre più contrariati quali mansioni possono avere nove profughi accolti nel B&B di famiglia l'orrore negli occhi Antonetta l'ostruismo ereditato nel DNA i miei si prodigavano adesso tocca a noi sperano di tornare presto in Ucraina e sono restie ad accettare persino i vestiti Vienna torna sul cammino della pace con il tricolore e la bandiera giallo-blu schianto contro il casello muore a 28 anni giovane discafati ucciso sul colpo la sua auto prende fuoco l'incidente di notte all'altezza della corsia telepass di Nocera la procura decide se liberare la salma o chiedere l'autopsia indaga la polizia stradale acquisiti i filmati delle telecamere casa in fiamme a Salerno palazzo evacuato vie chiuse panico e caos al rione calenda sotto shock la proprietaria dell'appartamento nessun ferito grave e sul tema rifiuti dalla Tunisia ora i dettagli con il servizio resta alta la guardia dei sindaci della Piana del Sele sulla vicenda relativa ai rifiuti provenienti dalla Tunisia gli amministratori anche dopo l'ultimo incontro avuto al Tribunale di Potenza hanno ribadito la propria contrarietà al trasferimento dei container nel sito militare di Persano un concetto sottolineato con forza dal sindaco di Serra Franco Mennella è una sconfitta per le istituzioni se c'è un protocollo d'intesa un patto tra le istituzioni per cui non un grammo di immondizia a serre in emergenza quando c'è stata un'emergenza abbiamo fatto una mega discarica all'Occaldà Macchia Soprana per tutti i rifiuti della regione Campania beh io credo che i patti vadano rispettati la procura di potenza ha garantito che la prima ispezione dei container avverrà nel porto di Salerno proprio per verificare l'eventuale presenza di rifiuti pericolosi soltanto in caso di via libera poi sarà autorizzato il trasferimento a Persano ma gli amministratori dopo aver chiesto aiuto anche al presidente della Repubblica sono pronti a nuove azioni le proveremo tutte come abbiamo sempre detto poi è chiaro che saranno fatti degli atti e noi secondo quello che è possibile fare secondo legge sempre perché noi siamo per rispetto delle norme per la legge noi cercheremo di fare qualunque atto legale sempre in contraposizione di questo di quello che si vuole fare le cronache medici di base si indaga sui rapporti con alcuni farmacisti vengono inviate le ricette dei medicinali via mail ma c'è chi impone ai pazienti di comprare nelle stesse farmacie scattati controlli e interrogatori andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it il racconto dalle province ancora un tragico incidente nel sannio auto contro un albero muore una donna l'impatto lungo la vecchia viabilità che da San Giorgio conduce a Benevento ferito 39enne droga e armi inchiesta della DDA nel napoletano sette provvedimenti all'alba nel mirino dei carabinieri un gruppo criminale organizzato e ben strutturato associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti detenzione porto illegale di armi clandestine comuni da sparo e ricettazione inoltre ad Avellino Green Pass mascherine e tamponi fine dell'emergenza covid ecco cosa cambia le nuove regole stop allo stato d'emergenza a Napoli adesso c'è davvero un Ciro Mertens è nato il figlio di Driss l'attaccante è diventato papà per la prima volta passi in avanti per il rinnovo di Colibali Basalerno paura al rione Calenda fiamme in un appartamento palazzo evacuato l'incendio è avvenuto intorno alle 17 in un'abitazione di via Ruggero de Fugaldo panico a Fisciano uomo si scaglia contro auto passanti e sanitari i volontari del punto lo hanno condotto in ospedale dove ha provocato altri problemi ad Avellino a Montaguto un malore o un ostacolo improvviso potrebbe aver causato la morte di Francesco la tragica morte del motociclista di Bari nella valle del Cervaro al confine tra Campania e Puglia in fiamme a Montoro deposito di macchine agricole paura nel comune tre ore di lavoro per spegnere il rogo alle 21 e 30 di ieri intervenuti sul territorio del comune di Montoro in via Ferriera per un incendio che ha interessato un deposito di attrezzi e macchine agricole la struttura in legno e lamiere era avvolta completamente dalle fiamme che la squadra intervenuta supportata anche da due autobotti ha spento impiegando circa tre ore di lavoro anche per mettere in sicurezza l'area non si sono registrate persone coinvolte a Montoro da Benevento Montesarchio operazione antidroga in Valle Caudina disposti otto arresti cinque in carcere tre ai domiciliari in azione i carabinieri nella Benevento giornate fai di primavera boom di visitatori nel Sannio per l'occasione riaperta anche la chiesa di Santa Teresa nel cuore del centro storico la meraviglia di ritrovare luoghi chiusi da tempo la musica del conservatorio e la voglia di ripartenza all'insegna della cultura anche nel Sannio fine settimana dedicato alla cultura e alla riscoperta dei luoghi più belli e suggestivi del territorio con le giornate fai di primavera è tutto per la rassegna stampa ringrazio in regia Aldo Fenizia buon proseguimento sul canale 696 grazie a tutti